Musica Hello guys, welcome to this new video here on Battlefield 3 Allora, oggi sono qui in conquista larga, dovrebbe essere questa Perché sono due, quattro, se sì, sono decisamente a conquista larga Con parecchi, parecchi, parecchi obiettivi Andiamo a farci una partitozza su Battlefield Perché effettivamente Bross non la faceva a moda un po' all together E quindi ho detto cosa ci può essere di meglio per staccare un po' da Minecraft E da Evoland che sta uscendo in questo periodo Se non un po' di Battlefield Un po' dello sdrogo battle Battle Di tutto Battlefield Lo sdroghiggente Butterfield Punto Ok, dopo questa intro in cui non si è capito più o meno un cazzo Io ho preso il cecchino Là c'è un tank Lì c'è un cazzo Andiamo a vedere che cosa riusciamo a fare Con il nostro barrettozzo In questa partitina, Bross In questa partitina Perché il nostro barrettozzo Come dire Eh, sì È un barretto È un po' ozzo E quindi un barrettozzo Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ok, basta Basta sparare la stronzata Andiamoci a postare dentro a quella casetta Tipo Andiamo lì Andiamo lì No, vorrei correre con la pistola Eh, grazie Battlefield Grazie Ok, grazie Oh, c'è una C'è addirittura una finestra Ma mi stai dicendo che tipo Potrei camperare qui così Tipo Spari qui Spari qui Sì, rompiti Ok, grazie Perfetto Voi giocate Io campero Io Voi giocate Io campero Quello è una persona, no? Quello è un tank Voglio un player Eh, potreste finire di utilizzare tipo tutti i mezzi No, perché sapete com'è Eh, io ho un cecchino Non è che c'è un RPG Che tiro giù I I carri Mi piacerebbe anche poter attaccare qualcuno Se mai Dunque, siamo un po' tanti Siamo tipo 28 contro 30 Quindi Il server è bello grosso Eh Esatto, bro È bello grosso il server No, dai L'avevo preso Beh, mica sto laggando un po' 71 di ping 71 di ping 60 60, purtroppo Vabbè, comunque Aspetta Risaliamo Riandiamo Ri-ri-riandiamo Qua c'è uno con il tank Avamposto C Decisamente Prendiamoci Il nostro Prendiamoci il geniere Perché con il geniere In questa mod Possiamo prendere questo Ma noi lo nascondiamo Non si sa mai Sapete com'è Potrebbero darci del cheater Del tricker Del preakers Oh Ma fai salì Grazie, bello bro Oh mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma tua anche Andiamo Andiamo a far saltare Qualcosa per aria Con il nostro RPG Però ci vuole un attimo Di tempo Giusto Giusto I due secondi Che mi riesco a trovare Un tank di fronte Tipo quello Ma quello è fermo No, non è fermo Quello non è fermo Giù Giù, giù, bro Giù Mira, mira Spara Aio Domination Come è che con due RPG Non esplode Ah Hanno il geniere Bastardo Geniere Bastardo Adesso ci penso io Brothers Ci penso io Fammi uscire B Questa è sempre in culo Al mondo Cazzo Qua Che roba è Qua niente Qua nulla Facciamo C Di nuovo Riandiamo da C Nuovamente On B Andiamo a farci la nostra terza Morte Sì, già Già a tre Siamo già a tre Oh mio dio Siamo già quasi a tre Perché già so che sto per andare a morire Questa modalità Io non le gioco Solitamente Perché effettivamente Vedete Io schiatto come se fosse Candeggina Non so su cosa Proprio davvero Una cosa epic Epic Fucking epic Vorrei fare qualche bella azione Però se mi faceste Tipo Vivere Ma Ma un po' Non dico Molto Semplicemente Quel poco Che basta Per farmi fare Una kill Un'esplosione Una double Triple kill No In effetti Guys Conquista Non è proprio Il mio forte Lo sapete Lo faccio Perché molti di voi Mi hanno chiesto Di fare le partite On conquistas E quindi Facciamo il conquista Però È giusto per Allora Andiamo Adesso Cerchiamo di farci Un'infiltrazione Più tattica Su Adesso Io posso Posso provarci Posso riuscirci Ci infiltriamo proprio in maniera Ultratattica Guardate Qua 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 Non c'è nessuno Non c'è nessuno Sì Non c'è nessuno Bro Andiamo Andiamo Zitti 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 Andiamoce ne su Andiamoce ne su Andiamoce ne su Allora Delle scale Delle scale Anzi no Prima prendiamo Nell'RPG È uscito un tipo Con la macchinina Zitti 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 Fermi tutti Oh Oh Renna Renna Mio dio È lì È lì L'ho preso Ma quante cazzo Di colpi ci voglio Su quel tanker Buttarlo giù Ventordicimila Oh Eh dai Ma che è Il tank Il tank del Gesù Non lo so Oh Si è spostato Si è spostato tutto Si è spostato tutto Eccolo Eccolo L'ho preso L'ho preso No non l'ho preso L'ho lasciato paurosamente Andiamo su Sì L'ho lasciato di nuovo Ma te pareva Oh Ma dai Guys Se l'avete visto anche voi L'ho preso 3-4 volte Sto tank Poteva anche esplodere Ah ma c'era ancora Il gennere dietro Ma dai Che palle Finitela di camperare Con i gennieri Su Su Fate 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 le persone per bene E finitela di fare queste Brutte Brutte action Che davvero Cioè Che cazzo di sfizio c'è Se non posso distruggere Un figa di carro armato Uuu Uuu Moto Eh Avevo moto Ci era giusto Sì Ok Via Via Renna Via Guida Come se non ci fosse un domani Guida come se non ci fosse un domani Corri Renna Corri Mio dio Mio dio Il carro armato Vai Renna Vai Vai Renna Vai Andiamo su D Andiamo su D Andiamo su D Andiamo su D Mamma mia Mamma mia Guardato Lorenna Come D Ok Dai Dai bro Dai No 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 Ma dai Ma come cazzo è possibile No questo davvero 2% di 2% di vita 2% 2 Raga 2 Non 1 Non 4 2 2 Capite quanto è 2% di vita E' un cazzo 2% di vita Quello è rimasto con 2% di vita E non l'ho ucciso Cioè sono Sono 0 0 5 Bah Vabbè lo sapete Le partite sdrogo a noi piacciono Una sdrogo partita Per una sdrogo questa Giù così Giù così Giù 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 Qui Qui così Dietro Dietro Non ci beccherà mai nessuno Così Preso 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 Ucciso Corri bro Corri Ricarica Ricarica l'RPG Ricarica l'RPG Vai bro Vai bro Andiamo 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 Sono un po' stanco oggi Se mi sentite un po' sottotono E' per questo Ma purtroppo all'ultimo periodo Sono molto molto preso Dalle varie registration Dei giochi Ehm Quindi sono effettivamente Un po' sottotono Però niente di preoccupante Quindi voi state tranquilli Perché Perché Renn c'è sempre Andiamo a riprenderci A La stavo conquistando Io voglio A Cioè cos'è quello? Un tank? E' un tank? Ma è esploso E' già saltato? E' già assa No non è per niente È già saltato E' proprio lì che mi dice Renn Inculami col tuo RPG Per piacere Proprio lì Guardatelo E' lì che fa così Dice Renn Per piacere Inculaci entrambi col tuo RPG Visto che sei un geniere Invece di Oh my god Ma C'erano due tank lì E si sono volatilizzati Ok andiamo a prendere A Andiamo a prendere A In mano con il nostro HP Salta Salta Ho 15 di vita 15 Non so come farò Non so come farò Ma noi faremo Noi faremo Vai bro RPG lì Che si è deviato Magicamente Ancora Non l'ho preso? Davvero non l'ho preso? Cioè ma state scherzando? Cioè no eh No no Ma voi state davvero State scherzando Non l'ho preso Ma che liscio guys Che liscio Ma dai Non è possibile Oh 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 No 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 Cazzo Cazzo Pensavo non mi prendesse Alla strada Si alzava Damnation Sto rosicando Come pochi Siamo 31 contro 31 Quindi siamo 62 In tutto Interessante Allora riprendiamoci Il nostro cecchino Ma almeno ci possiamo Camperare Andiamo su A Ci mettiamo in una casetta Anche se poi Con un cazzo di cecchino Che cazzo facciamo A solidarietà Un par di palle Facciamo Perché stiamo tutti Sul tank Sul carro Sul tank Carrarmeito Sul cararmeito bro Oh 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 Che è? Che cazzo è? Una discoteca? Di disco Disco non so Oh Ma mio dio È suonata la sveglia bro Se l'ho anche spenta Però voglio prima Vorrei fare almeno una kill Una Non dico tanto Una kill Allora Ho qualcosa Per contrastare No no Non cazzo per contrastare Quegli stronzi Mi serve qualcuno Ecco tipo Qualcuno che scendeva A quel carro adesso Scendi da quel carro E dimmi Renna Ma sì Fammi tuo Proprio Nel senso Che mi devi inculare A morte Con un ciocchino Perché lui è la cosa Che posso fare Contro un cazzo di carro Voi capite? Cioè Non è possibile Mi lancio una granata Sì ma Non gli farà Una palta di niente E infatti Non gli ho fatto un cazzo Ma boh Io lancio Non lo so Sardine? Davvero? Lancio sardine bro? No fatemelo sapere Perché se lancio sardine Io vado Cambio gioco Vado a giocare A un gioco di pesca Proprio Bah Facciamo l'ultima morte Va Forse è la cosa migliore Dai investimi Dai Dai Investimi Oh perfetto Prendiamoci il geniere Una volta preso il geniere Cerchiamo Di fare una cazzo di kill E poi boh Poi un cazzo Poi se non ci riusciamo bro Non ci siamo riusciti Non posso farci nulla Purtroppo qui Giocano tutti col carri Con gli elicotteri Col carro al ricottero Con l'elicottero al carro Il carro dell'elicottero Beh comunque Con la roba lì No Io non ci posso far nulla Posso solamente Prendere il mio RPG Sparare come un dannato E sperare Che un giorno Tutto questo cambi Bam 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 Cristo Perché mi sparate Come dei folli Come dei folli Ah finite Dai Donnozio Non ci do un cazzo Quando mi sparano Su questo gioco F 18 E te pareva Non era un tank Guys Mi dispiace per questa partita Davvero scabrosa Spero vi siete fatti due risate Io non tanto Sinceramente Comunque Ci sentiamo in un prossimo episodio Di Battlefield O comunque in un prossimo video Lasciate mille mille mi piace E mille mille commenti Enjoy E carina Secondo voi Bye 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 Grazie.